Amici di Milanello, buon pomeriggio a tutti! Allora, oggi c'è Milan-Juve, io entro in te che ho scivolato in questo fantastico nuovo canale di Andrea Longoni che saluto e voglio provare a farvi ricordare il vostro Milan-Juve o Juve-Milan preferito della storia. È vero, adesso penserete tutti che io dica quello della finale di Champions, è vero, quello è un Milan-Juve irripetibile e che loro, ricordatevi, non avranno mai l'occasione della rivincita, era troppo importante vincere, se avessi perso anche tutti quelli dopo, che più o meno è andata così, andava bene lo stesso. Però quello non avrà mai l'occasione della rivincita, unico rimane lì, ma non è il mio preferito. Il mio preferito, dovete sapere, vi faccio una piccola, apro una piccola parentesi, e vi devo dire che in quel periodo, oltre a tifare Milan, io tifavo per Pippo Enzaghi, ovvero una vittoria o un pareggio con gol suo per me valevano, o quasi quanto tutto il Milan stesso, quindi per me aveva doppio valore la vittoria con gol di Pippo Enzaghi. E se ricordate bene, proprio in quella stagione, nella gara di ritorno, che adesso vado a memoria, e dovrebbe essere stata giocata intorno a marzo, era comunque decisiva per lo scuetto che poi vinse la Juve. Il Milan si impose per un 2-1, allora segnò prima Sheva in un'azione personale, poi pareggio Nedved con un gol fortuito, punizione che non tocca nessuno, e poi, verso la metà del secondo tempo, Pirlo fa uno di quei lanci suoi perfetti, Pippo fa uno stop da far vedere a tutte le scuole calcio, nello stop riesce a saltare Montero, che cade a terra, e ha quell'istinto che solo lui aveva, sente arrivare Buffon senza guardarlo, e con un tocco morbidissimo gliela infila in mezzo alle gambe, fa 2-1, nell'esultanza manda anche a terra Montero, perché lui nell'esultanza era senza farlo a posto, ovviamente. Ma quel Mila Juve è fondamentale, perché anche se poi non vinciamo lo scudetto, perché perdiamo punti con le piccole, tra virgolette, tipo l'Empoli, eccetera, eccetera, però fa capire al Milan che era una squadra più forte della Juve nello scontro diretto, e che infatti poi è stagione che ci porterà a trionfare in Champions League, ma anche in Coppa Italia. Ciao ragazzi di Milanello, alla prossima, e scrivete sotto i commenti qual è stato il vostro Mila Juve preferito. Ciao Guaglio!